Nel comune di Melito di Napoli, militari della locale tenenza insieme a quelli forestali hanno sequestrato un'officina meccanica e denunciato a piede libero il titolare per emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazioni. Sempre a Melito i militari hanno individuato e segnalato agli enti di competenza per il ripristino dei luoghi un'area di via Giulio Cesare dove erano stati sversati diversi rifiuti pericolosi. Ad Arzano i carabinieri della locale tenenza insieme ai militari forestali di Napoli hanno ispezionato un'autocarrozzeria di via circunvalazione. Il titolare della ditta aveva omesso di compilare il registro di carico e scarico rifiuti. Nessuna ombra invece del registro di manutenzione e monitoraggio per il rispetto delle prescrizioni autorizzative. A casa nuove carabinieri locali e di forestali di Marigliano hanno denunciato il rappresentante legale di una ditta del posto per smaltimento illecito di rifiuti. Durante i controlli i carabinieri hanno trovato vecchi elettrodomestici, pezzi di carrozzeria, di veicoli e motori intrisi di olio che erano stati nel tempo accantonati all'interno di tre cassoni in ferro. L'area di circa 15 metri quadrati è stata sequestrata. Altra officina ma questa volta Giuliano in campagna dove i militari della locale stazione insieme ai preziosissimi colleghi forestali hanno sanzionato il titolare che non aveva aggiornato il registro per lo smaltimento dei rifiuti. E ancora nella cittadina di Mugnano di Napoli è stata denunciata a piede libero la rappresentante legale di un'attività di ristorazione di Via Nenni dove i carabinieri hanno trovato 5 lavoratori su 8 in nero e tra i 5 e i due erano anche precettori del reddito di cittadinanza. Disposto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. I carabinieri della stazione di Grummo Nevano insieme ai colleghi di nucleo operativo del comando gruppo carabinieri tutela del lavoro di Napoli hanno denunciato il titolare di una ditta di confezionamento di capi di abbigliamento. I militari oltre ad aver constatato come l'imprenditore facesse lavorare i suoi dipendenti in precarie condizioni igieniche e di sicurezza hanno trovato all'interno del laboratorio 6 lavoratori tra cui un precettore di reddito di cittadinanza non regolarmente assunti. All'imprenditore sanzioni amministrative e penali per un totale di 124 mila euro. L'attività imprenditoriale è stata sospesa.